Buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti generali e ringraziamo Luca Molinari e Simona Finesse e tutta la redazione di Platform per averci invitato oggi a questa bellissima iniziativa. A fianco a quello che è il normale dialogo che il progetto di architettura instaura con tutti quegli elementi che in qualche modo ne definiscono il limite, quindi il dialogo con la committenza, il dialogo con le preesistenze, il dialogo con la normativa eccetera eccetera. Esiste un piccolo spazio, un piccolo spazio libero, intimo, personale che in qualche modo noi cerchiamo di salvaguardare, di mantenere all'interno sempre di quello che è lo spazio del progetto. Un dialogo che talvolta si configura attraverso piccoli dettagli, elementi che apparentemente appaiono secondari all'interno della configurazione generale dello spazio, ma che per noi sono molto importanti per omaggiare e rendere espliciti quelli che sono i nostri riferimenti che in qualche modo hanno guidato la genesi del progetto. Il primo progetto che vi mostriamo è un piccolissimo intervento che abbiamo realizzato 5-6 anni fa per la riqualificazione di un piccolo spazio commerciale, un piccolo negozio di abbigliamento nel centro storico genovese. Questo locale era, in realtà, come si può vedere, l'ingresso principale del palazzo che è stato riutilizzato negli anni. Il nostro dialogo con la storia si risolve facilmente attraverso il ridisegno di questo portale, la ripulitura di tutte le superfettazioni. Il disegno di questo portale è realizzato attraverso una sottilissima lamiera in metallo che riprende il disegno dell'antico portale. All'interno, tutti gli elementi di arredo sono realizzati attraverso una semplicissima modellazione di un banalissimo ferro d'armatura da cemento armato. Proprio di fronte all'ingresso principale, nella prima parete che si vede entrando, esiste un piccolo dettaglio, quello che vediamo lì in primo piano, che è stato, in qualche modo, il nostro spazio, diciamo, proprio per citare quella che era per noi una fonte che, diciamo, ha ispirato il progetto fin dall'inizio, che è questa palestrina che Craig Elwood, negli anni 50, aveva disegnato per la case study house numero 16 a Bel Air. Questo piccolo dettaglio, uno spazio che diversamente non poteva essere utilizzato, diciamo, in termini utilitaristici, è diventato per noi un elemento di espressione, appunto di tentativo di dialogo con un aspetto più culturale, effettivamente, del progetto. Il secondo progetto che vi mostriamo brevemente è la riqualificazione di un appartamento posto nelle colline genovesi. Questo appartamento, con tutti gli arredi all'interno di questo spazio, sono stati interamente disegnati ad hoc da parte dello studio. Brevemente, la configurazione di tutto questo appartamento ruota attorno, questo grande elemento cruciforme che si vede, questa sorta di grande trave a croce, che è stato sì un elemento generatore dello spazio, ma è stato banalmente anche un modo per poter gestire tutti gli elementi tecnologici e quindi distribuire tutta la parte impiantistica dell'appartamento. In un estremo di questo elemento è stata ricavata quella che è la scala che collega con il sottotetto, con il livello superiore della scala. Nella volontà di creare un dialogo tra questo spazio interno chiuso della scala e lo spazio principale, quindi il living della casa, ci è venuto in aiuto la citazione della bucatura che il maestro Alvaro Sizza ha disegnato per la fondazione Ibere Camargo a Porto Alegre in Brasile. Veniamo a un progetto più recente dell'inizio di quest'anno, ancora una ristrutturazione di interni a Camogli. Il layout dell'appartamento presentava un problema classico delle nostre latitudini, che è la presenza di quello che nella nostra regione si definisce l'ingresso alla Genovese, cioè una gigantesca stanza di ingresso che per le abitudini di vita odierne è spesso difficile da utilizzare, da ricollocare. In questo caso non poteva essere sovvertita per la presenza di muri strutturali, eccetera, e quindi abbiamo deciso di enfatizzarlo, facendolo diventare la parte centrale del progetto e in qualche modo cercando di rivalutarla come una sorta di vestibolo che distribuisce a tutti gli altri ambienti della casa. E in questo ci è venuto in soccorso il ricordo di questo appartamento per la famiglia Reynolds realizzato da Michael Graves nel 79 e che appunto, diciamo, analogamente si riferiva alla tradizione romana, ovviamente nel contesto del postmodern, e si vede abbastanza chiaramente come poi appunto il riferimento ha indirizzato nella scelta di certi colori, nel rapporto con la luce, nella ricerca abbastanza serrata, appunto di una simmetria che di fatto poi non esisteva nella casa e che è stata ricostruita attraverso questo mobile centrale, come un po' si può insomma capire dalla pianta in raffronto appunto con la pianta di Michael Graves, che invece si allude più precisamente alla basilica. E arriviamo invece all'ultimo progetto che vi vogliamo mostrare, che è proprio un inedito, l'abbiamo fotografato da poco, è una casa, sempre a Genova, in un luogo molto fortunato, nel senso che effettivamente insomma siamo stati molto fortunati a poter lavorare qui. Si tratta di un lotto decisamente centrale nella città, anche se dall'immagine non sembrerebbe, e l'edificio appunto che abbiamo ristrutturato apparteneva alla cinta muraria di quel castello eclettico che Gino Coppedè ha realizzato praticamente un secolo fa, vicino alla zona di Boccadasse, diciamo, quindi in centro Genova. Non descrivo il progetto perché insomma ci teniamo a stare nei tempi prestabiliti, ma vado subito diciamo all'analogia relativa, che in questo caso, a differenza di quelle precedenti, è un'analogia del tutto involontaria, e quindi un riferimento del tutto involontario, che ci è stato suggerito, diciamo, dall'amico e maestro Walter Schelsi, che è maestro di analogie soprattutto anche, e che ci ha fatto scoprire, a posteriori, dopo che gli abbiamo mostrato le foto della casa, questo edificio di Luigi Carlo Daneri, realizzato a Sestri e Levante nel 58, e questa analogia ci ha colpito tantissimo, perché al di là dell'analogia del contesto, cioè del fatto che sono due case su delle scogliere, però ci è piaciuto molto il fatto che Walter abbia colto appunto uno di quegli spazi di libertà a cui faceva riferimento Lorenzo prima, e cioè del fatto che in un contesto chiaramente estremamente normato, dove ci veniva imposta anche, diciamo, la persiana, l'utilizzo di una persiana verde, quindi nel senso estremamente neanche il colore della persiana poteva essere, diciamo, interpretato, abbiamo cercato comunque di dare un taglio moderno a questa casa, e abbiamo cercato di farlo con dei sotterfugi compositivi, utilizzando ovviamente la terrazza di copertura, utilizzando uno spartito di facciata dove le quattro aperture quadrate, qui distanti, aperte le finestre in qualche modo rievocano il segno, la presenza di una finestra a nastro che ovviamente non c'è, e poi dando a questo corpo di fabbrica una sorta di velato galleggiamento, diciamo, evidenziando appunto il piano superiore con questa fasciatura in Ardesia, e lasciandolo quindi leggermente aggettante rispetto al piedistallo di pietra. E ci ha colpito vedere come Daneri, 60 anni prima, si era trovato in qualche modo a usare analoghi e scamotage, nel senso che anche lui in realtà ha un tetto a falde, però a falda unica, che pende verso l'interno, e quindi in qualche modo salva dal punto di vista, diciamo, dell'amante, della modernità, il prospetto principale, poi ha una facciata che in realtà è organizzata con una serie di porte finestre, anche queste con persiane, ma che vengono nascoste da questo appunto dispositivo di ombreggiamento, che poi è una rielaborazione della soluzione adottata da Elien Gray a Cap Martin. E anche lui appunto poi cerca di far galleggiare questo volume, dandogli appunto l'ombra del terrazzino al di sotto. E cosa volevamo insomma dire con questa carellata di analogie? Prima di tutto che, insomma, portarvi la convinzione ottimista che all'interno di ogni progetto, con tutte le restrizioni al contorno e con tutto, diciamo, appunto la contrattazione che si deve mantenere con il programma funzionale, col cliente, con la normativa, eccetera, ci sia sempre lo spazio per inserire le nostre passioni, le nostre convinzioni a riguardo della disciplina architettonica. E la seconda, più importante, è che queste passioni alla fine finiscono per generare un ulteriore dialogo, a volte anche involontario, proprio perché, cioè grazie al fatto che tutto sommato c'è una cultura disciplinare condivisa, perché siamo convinti, insomma, che l'architettura debba essere soprattutto un'avventura collettiva, e quindi anche per questo ci fa doppiamente piacere essere qui e condividere queste cose con tutti voi. Grazie.